cari amici e vediamo come vengo con questo vecchio tablet che me l'ha regalato mia madre per Natale 2013 altrimenti io farei il video con questo Nokia Asha 302 e vi faccio vedere con quale tablet mi sto filmando vediamo un po perché andiamo in archivi immagini ecco qua e facciamo zoom mi sto filmando con questo tablet non penso che si veda molto bene l'immagine c'è il riflesso vabbè con un tablet che è super economico io infatti non so che qualità di video potrà venire mi sto filmando con la camera frontale perché io questo tablet l'ho portato in preparazione mettiamo il caso otto volte già l'ho spiegato in un video che ho fatto anni fa nel 14 15 credo nel 15 perché mi è durato otto mesi certo io non sapevo che bisogna eh preservare la batteria mi si scaricava ogni volta però c'avevo una batteria molto limitata di mille milli amperi una cosa del genere allora dopo che l'ho portato nella garanzia stessa che gli ho fatto il tablet quattro volte quattro volte nella garanzia di fabbrica poi non ce l'ho più portato eh avevo qualche giorno per portarlo in garanzia ma succede che ha sempre avuto limitazioni ah qua mi dice il tempo è da due minuti e ventidue che trasmetto lo dice piccolino ho sempre avuto limitazioni nella batteria fino a che eh ho fatto un video mi dice eh ogni tanto si altera il colore dello schermo eh system only has stopped allora io sono riuscito a trovare la sono riuscito a trovare per questo tablet che è della euro case il suo android gelidean 4.4.2 se non mi sbaglio e a reinstallarlo però che è successo reinstallandolo si vede che non era originale si vede che c'ha dei problemi in tablet e la camera frontale che è eh filma in mille quattrocento quaranta per milleottanta o millenovanta ha ha iniziato a avere un una immagine che oltre a essere scadente come prima è come se si vedesse sott'acqua oppure un filtro azzurro non dipende bene i colori è tutto sfocato come attraverso la nebbia invece filma ancora bene si vede dallo schermo del tablet con la camera per i selfie e per fare per fare le trasmissioni no le chiamate su skype eccetera però c'è il problema però che non so ci avrà due microfoni quando filma con la camera che dopo che ho potuto reinstallare e dal giorno in cui ho potuto riparare questo tablet ho reinstallato il sistema operativo molte volte perché non so per quale motivo ma si deteriora con la camera frontale il suono è buono ma l'immagine è pessima e invece con questo eh con questa camera frontale qua cioè di dietro dei selfie cioè la camera che mi da guardando lo schermo e che io guardo lo schermo invece che la camera poi c'è una pellicola qua che non è Gorilla Glass ma c'è una pellicola di tattico che si sta cercando di protezione dello schermo ma con la camera questa qua che ho davanti a me l'immagine è buona ma il suono è cattivo si sente un po' come se parlassi qua 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 come una papera allora niente così come ho fatto dei video con la mia vecchia web camera e adesso voglio fare dei video per non stare sempre col cellulare perché prima o poi il cellulare mi pianterà ecco la mia vecchia web camera mentre invece questo è il tablet di cui parlavo non so se si può vedere cari amiche cari amici è un tablet che non dice niente c'è una risoluzione di immagine pessima economico allora ogni tanto vedo che non so se vedete c'è poca illuminazione e questa camera frontale ha anche un sensore del tavolo ma ogni tanto ogni tanto cambia la tonalità del colore allora questo è tutto non voglio fare un video pesante volevo solo fare un video per farmi sentire di nuovo dopo la like di ieri e vi ringrazio di seguirmi e vi ringrazio e a presto arrivederci e ciao